Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui è il vostro Mizzero 6 Questo video non so se ve lo pubblicherò perchè sono in parti con Francesco ma l'ho mutato per farmi sto video subito subito veloce veloce Allora, dilettante, questa la perdiamo sicuro, me lo sento Ah, già partiamo male, questo non ha le cose, quello sta male, quello si è spezzato il pollice Allora, io direi di difesa di dargli qualcosina e rimetterla su perchè Allora, sono messi tutti... No, ma non ho la slot, vogliamo levare per forza, non voglio usare le carte con lui Dove cazzo sono i miei difensori? Ecco, il mio negretto preferito Molti, c'è molti, ho pensato, molti un cazzo, come terzino adesso il posto di basta metterò Florenzi Allora, io vorrei far giovere troppo a Nera Silva Detto così tra di noi Dove cazzare, adesso Ok, partiamo subito Dai, 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 dai Questo video vuol far durare pochissimo perchè ho anche degli impegni da fare Minchia, 884, 882 Vabbè, il mio miglietto è l'Inter Voi mi mettete sta cacata gialla Chi è più, chi è più capellone traquadrato E quell'altro chi è Marse... no, Marsello è un cazzo, chi è quello? Oddio Minchia Non è... non è... allora Mi metto le mani avanti, a parte Kaiokon I giocatori sono tutti normali, perchè Kaiokon non è normale È forte Sono tutti normali, si può... Marchisio stai zitto Ah no, scusa, Marchisio, c'è il mio Dio, non volevo insultarti Allora, non è difficile, si può vincere Però in dire... ecco, in direttante, questi qua che sono veloci, mi fanno il culo Herrera Uh, bello No, è mia, è mia, è mia, l'ho toccato a lui È mia Bello Voglio, voglio il tipo che mi viene da dare una mano No, è rito, ma non passatemelo, cazzo Sì, va bene No, va bene, regà Questo mi fa nel culo Prima partita del giorno, non posso andarmela a giocare in direttante, è un suicidio L'hai visto, Listeiner? Beh, Listeiner, dovresti scattare così te la ridà Vedremo se arriverà il gol numero 250 Numero 250 Per questo l'ultimo tuo 200 Cinquecentesimo Gol Di immobile 200 Cinquecentesimo Di immobile E partita di disdossia 250 Con il di immobile Che festeggia così Quella da betta Pazzesco, ma se lo merita Perché, regà, guardate che fiero Manco fuori gioco, quindi topissimo Vabbè, regà, finora su squadre scarse Si può fare Il problema è il prossimo aggiornamento delle squadre Sai che cazzo mi dà contro? La possiamo iniziare a giocare A dilettante e bene Che là si partirà con le partite vintage Una 0 stento Queste le dovrevo giocare in esperto Quando ero bravo io queste le gioco in esperto E quelle dopo in dilettante Vabbè Oddio Listeiner lo vede, lo vede, lo vede, lo vede Uh, bella per quadrato Stavo dicendo Marcello Di tacco Per Marchisio Vedi, immobile Lo manda Regà, 4-3-3 La punta ora Non è più forse nuove La punta è dove deve essere 251esimo gol per lui Il capitano No, direttamente Non dico che è facile Lo devo farlo veramente esperto contro questo È che poi mi facevo nel culo Direi di lasciarla così come Anzi, di fare sempre il coso dei 6 gol No, se vi piace vi ho portato pure i video Giusti, i video in cui gioco on-line Eh, vabbè, su spastico Su spastico Su spastico Quilipari Quilipari Non è veloce La passa subito a Marchisio Che lo vede Uh, vogliono spedire di nuovo immobile Lo vedono No, minchia immobile così era top Ma immobile non rovescia mai, cazzo Cioè, non rovesciare senza il vomito Dico, non le fa mai le rovesciate Quadrato Niente, non lo risco a schillare Non ho detto Convintissimo io Ci sono andato E invece no Oddio Prendila Bella bomb Bella merda Regà, vi prego ancora il palo Marchisio Strutman L'ho visto L'ho visto Ok, grazie Mi ha lasciato lo spazio Tuck No No Questa è colpa del palo Che mi ha tirato lui Che sta qua vibrando Mi sono scongendo Uno che uno col portiere L'ho tirata con me Tanta cazzo Cioè, era gollissimo quello Quanto sono scarso Hanno provato a sfondare per vie centrali Ma sono stati fermati Volevo fottere Vai Quadrato Regà, regà immobile qua no E chi ci sta al centro? Attenzione a Marchisio Immobile Oddio Bello sto dire Chi era Un coso Ma tu Non l'ho visto Tutti in eriso Ci fa strotto Ma di testa Oddio Oh, però regà Se tu dire Lui è uno Che mi ha preso un palo Che è Gesù Cristo Grazie che non era gol Ma io Tu presto 6-0 Oh, siamo passati Oh, ma perché mi metto a fare Le cose stupide Ah, io ho cura questo Eh, benadio Non penso Corra così tanto Oddio, benadio Bam No, no Che cazzo stai facendo Ma chi Per in Fatemi sapere Se devo disabilitare La telecronaca Se mi dà fastidio Non lo so Perché alla fine Ci parlo di sopra Quindi non so Se vi può Servire E comunque Devo cambiare lo stadio Qua sopra sta luce Così da un fastidio Agli occhi No Che culo Regà Questi sono scarsi Come la fame Haha, lol Why Strothman Why Strothman Why Strothman Buonasera Io stavo registrando Lo so mutare Non so se voi nel video vedete io che lo muto Uno lo so Devo controllare Forse non vedete un cazzo Cioè vedete Continuate a vedere io che gioco Non ve la dà la schermata Gli Steiner Si smarca il primo Bestemmia per il secondo Si riprende la palla Oddio Oddio Fuori Invece Per poco prendo quel palo Ci è passata proprio una mano Beh l'8-13-37 Non gli gioco al super E' una l'8 Buona andiamogli addosso Immobile No Ragazzi Sono partiti Sono partiti Bella Einstein Ottimo terzino Perché dove non corre I terzini tipo dovrebbero essere Usain Bolt Più veloce è la mia ala No 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 Immobile Oh c'è un giocatore Io sto buttando tutti Tipo dovevo registrare No Eh ma questo video Non lo potrò mai pubblicare C'è un bordello Allora mentre pure Mattia e Barti Perché io ho voluto di venire Lo sapevo quando dovevo registrare Lo sapevo Vabbè dai Vittimo in 45 minuti Ce la dovrei Questo che li verrà una merda Ma io lo pubblico Quale è perché me l'hai sbattuto il cazzo Volevo far vedere Tipo ogni partita Che faccio per arrivare fuori classe Cosa è impossibile Perché Cioè se arrivo in fuori classe Scoppa il bordello Così senza usare il bug Giocando alle normali è impossibile Già tanto loro due Oro uno Mi piacerebbe un botto loro due Le ricompense mi piacciono Un casino 120 secondi da giocare No Bello No 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 fra Poi un momento silenzio Che è il top No Perché non l'hai preso Bella Bella Prima di un po' mi è piaciuto Mi è piaciuto un botto Mi è piaciuto un botto Cioè 8-4 va benissimo Tra cui veramente Lui si è mangiato due gol Bello assurdo Non so se far entrare A A Cioè i miei giocatori Sono mezzi morti Però Quindi direi di lasciarli così No Bello quella scivolata Che me la stai facendo su immobile No raga Oh che cazzo è raga Ma che tiro è questo Ma quale tiro Tac Uh Class raga Oh nanica Non ho toccato la palla per tutta la partita perché in fascia alta non ci gioco vai un strutman l'hai vista Nani? Ritagli io la sale a Immo Immo tira e fa gol no non è vero o poi è Nani o Nani perché l'accento non c'è però l'ultimo questo lo chiamano Nani ma io so che si chiama Nani buio Nani lo chiamo sti cazzo beh la ti ha alto due chilometri quindi ovvio che la prende lui no no raga che cazzo ha allora i stane per basta si si già non mi corre più poi si infortuna pure perché quando i giocatori di FIFA sono molto stanchi la probabilità di infortuna è alta quando ci sono scivolato contrasto che lo driguets lo driguets ma perché l'alzo perché l'alzo che il mobile è tappo cioè oddio non è tappo ma non ce la fa di testa figlietta dai dai ripigliamoci Nani ah Nani lui senza accendo pensavo con l'accendo scena di merda torna indietro Strotman la mette per immobile ma bello 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 oh ragazzi stiamo attaccando in una maniera assurdo vogliamo proprio il 4-0-6 di testa signori subito per immobile eh quello lo dirà eh vabbè regà ogni cazzo di tiro ci senti davanti alla minchia voi eh vabbè io poi chi cazzo la passo pure io poi mi lamento no dai dai benadio sia alto bella no ma perché là sopra c'era Strotman che te la stavo ad aspettare che bullismo non rivolgo da Strotman solo perché non è italiano cazzo è russo poi ci sono i razzisti uh uh un quadrato bello il capocannoniero ma regà se usciva questo le bestemmie mi sentivano davanti a tutto il mondo se usciva questo regà le bestemmie sotto i rischi si perché se mi stanno con questo cazzo cazzo che è matutino ancora non è buono per giocare o forse si non mi ricordo arrivati al livello imbarazzo vabbè noi dubbio lo cambiamo anche se non è il suo ruolo di Zilisky Zilisky ce la può fare io una volta l'ho messo pure attaccante perché no l'avevo messo alla destra perché mi si era infortunato sia Nani che che cosa che Kaijon e quindi ho messo a lui e se la cava è forte è forte regà lo puoi mettere sia come attaccante come centrocantista che come hana ora perché ho letto parlare sbaglio di Fortuna Cappellino in volta che è fortissimo no signori basta oddio guarda a quadrato guarda a quadrato no pensavo di averla io vabbè Rodrigo se la ripiglia guarda a metri verso l'area immobile no regà immobile non è un cazzo di fisico non lo prende la carta con 88 oddio no voglio quello basta vediamo voi cosa dite in quel video dove ah mi devo mettere il sondaggio dei tre obiettivi me lo devo ricordare possibilmente ve ne aggiungo pure un altro non lo so come ragazzi mi basta come girare i coglioni regà non lo so mi ero scordato pure come che il titolo dare a quel video ora ve lo so ricordato su che cos'era penso che cioè penso di avere il titolo vediamo se me lo ricordo l'angammetto ve lo faccio uscire il giorno dopo il primo non lo so vediamo come mi gira le palle perchè quel video ho detto che lo faccio uscire anche quella sera stessa poi alla fine non ho fatto uscire il giorno dopo della mattina verso le 12 tipo perchè quella sera stessa mi pare che poi si è fatto tardi mi sono notato e cazzo ho detto non lo pubblico a quest'ora che non se lo caga nessuno pubbliamo di pomeriggio così verso la sera già se lo so visti chi se l'ho vista che cazzo dire ho appena detto non lo so perchè la passo qua sono stupido dai mi sono pizzato oddio torno indietro no no rega però voi mi ha pizzato io cerco di salvarle non è finita eh io cerco di salvarle voi mi mettele a cazzeggiare no minchia non ci arrivo per pelo dai no 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 modalità pro player rega non lo fate mai a scivolare in aria che rigore farei per a lonna io può show mario signori show mario show mario dribble al primo dribble al secondo è partito il tiro vabbè rega vabbè rega quanta roba quanta roba rega dopo tutto con le skillette show mario signori modalità direttante non è il top ma ce la fa ah nani con insigne si si madonna insigne è morto cioè nani è morto non ha fatto un cazzo è giocato solo città immobile rega niente show mario la mette e invece retto si è fermato si è fatto i suoi 4 gol ha detto rega buona così ne vediamo dagli immobile dagli immobile stai immobile è un po' stanchetto c'è da dire c'è spazio per andare no 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 non mi piace ma perché su spastico che tiro tutto su spazio là sopra là sopra là sopra insigne oddio eh vabbè per fare lo scemo con insigne ci stava pure se si infortunava si si va bene dai ne manca uno devo fare un gol in due minuti no la devo fare sta sfida devo farla vai insigne vai insigne una mosca rega una mosca mi sta venendo qua nell'occhio dai rega la mosca di merda e vabbè madonna se la prendo gli faccio male sta mosca vabbè ragazzi per questo video minchia 5-0 fa schifo da notare loro guardate c'è 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 non era brutta questa squadra io direi che per questo video 610 crediti ce li siamo presi per questo video è tutto noi ci diamo alla prossima partita siamo argento 2 metal 1 quasi ci vediamo al prossimo video goodbye